Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Libiola di Sera Valle Podover, in corso alla tradizionale festa di carnevale presso la sala polivalente Gli Zingari. Una donna si è sentita male ed è svenuta e dopo alcuni minuti altre tre persone hanno iniziato ad avvertire strani malesseri. L'arrivo della Croce Bianca prima e dopo pochi minuti dei vigili del fuoco di Mantova confermava la presenza di un'alta concentrazione di monossido di carbonio nella cucina della sala polivalente. Nessun'altra delle 150 persone tra genitori e bambini in maschera presenti nella sala ha accusato malesseri, mentre le quattro persone coinvolte sono state trasferite in via precauzionale all'ospedale di Pieve di Coriano.